che giornata era quella? Allora la domanda che giornata era di Fantinelle si riferisce alle avventure di Giorgio Tessino che con la lista lunga molto lunga era un mattedì di tre settimane fa? Penso in febbraio. Non farmi tirare fuori anche allora passo a Fazzarago prendi la seggiovia vai su alla Gazzuoi. Molto bello che ho fatto anche sono andato su una volta a piedi alla Gazzuoi poi siamo tornati giù per la galleria. Poi siamo andati a Mentorola che è sotto. Sotto i ragazzuoi vai giù per la pista e lì c'erano i cavalli. Siamo attaccati alla fune dei cavalli e siamo andati a San Cassiano. Poi siamo andati a Corvare, Campolongo, Araba, Passofedaia, Margaccia Pena, Marmolada, siamo tornati giù a Margaccia Pela, siamo tornati a Passofedaia, siamo tornati ad Araba, abbiamo preso l'autobus, siamo andati fino alla vila, alla vila abbiamo preso il taxi e siamo tornati a passare con la terra, è rimasta solo la mia macchina, era buio. E tu Rosanna eri con Giorgio? No, no, no. Perché non ti porta? Ti lascio a casa? Ah ma già tu lavori il sabato. No, ma cos'era? Il giorno che Giorgio va durante la settimana a sciare, per me è una giornata liberissima, mi prendo sulla mattina, mi prendo sulla mia amico chi c'è e me ne vado. Si fida, si fida, tutto il giorno. Ah no, tutto il giorno ma vado via. Ah tu capi come che l'infortuna? Cos'è il cardiogramma? Questo qua è il cardiogramma. Si, guarda. Che lascio.